È tutto pronto per il ritiro del Verona, aspettiamo i tifosi con impazienza e anche la squadra di calcio. Il campo è perfettamente in ordine, il manto del campo è veramente straordinario, anche le temperature, devo dire, in questi giorni sono comunque accettabili e le infrastrutture sono tutte pronte, quindi noi siamo pronti. È stato fatto un campetto per favorire ulteriori allenamenti che il mister deciderà di sottoporre alla squadra, quindi siamo contenti perché ci abbiamo messo un po', però quel campetto è venuto veramente bene e alla stessa regola del campo di Mezzano che è veramente un buon campo da calcio. La presenza dei tifosi è indispensabile, sia per la squadra, per il sostegno che la squadra può avere durante gli allenamenti, quindi la possibilità di vedere la squadra e quindi incitarli, incoraggiarli, dà sempre un senso di sicurezza anche per i giocatori stessi, ma per la località dà l'opportunità anche di farsi conoscere e conoscere le nostre belle montagne. Poi i tifosi che seguono il Verona ormai da qualche anno e che vengono a trovarci conoscono la nostra località, ma qualcuno di nuovo scoprirà delle montagne straordinarie. La Valle del Primiero in questo è veramente una delle valli più belle del Trentino. Un gradito ritorno, la quinta volta nelle ultime sei stagioni. Per noi è sempre un onore poter ospitare tutto il popolo giallo-blu, la squadra innanzitutto ma anche tutti i tifosi giallo-blu e quest'anno ad aspettarli ci sarà anche il calendario di eventi che negli ultimi due anni non avevamo potuto considerare con tutti gli appuntamenti consueti e quest'anno ritorna al 100%, quindi la possibilità per i tifosi giallo-blu di seguire la squadra al campo, ma anche di divertirsi la sera e di godere appieno del nostro territorio. Ritorna anche la Summer Camp che è un contorno importante soprattutto per le famiglie che decidono di venire sul nostro territorio e anche quest'anno con una doppia sessione dal 4 al 16 luglio con la possibilità di seguire la squadra al campo ma anche di fare degli allenamenti per i piccoli tifosi che poi vedono sul campo i loro beniamini. Siamo ultimando tutte le pratiche visite mediche per i ragazzi, stiamo organizzando un po' tutto il trasporto materiale, altre persone sicuramente stanno lavorando affinché tutto il ritiro sia predisposto nel migliore dei modi e speriamo di fare un buon ritiro. Dobbiamo ringraziare tutto Primiero, l'associazione, tutti quelli che hanno fatto sì che questo ritiro per noi sia quasi casa nostra perché tanti anni che siamo lì e quindi loro sono molto disponibili, hanno messo le strutture, le hanno adeguate negli anni e quindi speriamo che anche quest'anno sia un ritiro che porti fortuna, che si lavora bene e che la squadra stia bene tutti insieme. Dopo un paio d'anni di assenza, questo potrebbe essere anche una spinta in più perché ritornare con la gente in ritiro non siamo forse un po' più, non siamo abituati però sicuramente loro si faranno sentire il loro calore e a noi serviranno tantissimo.